Oggi parleremo della quercetina Max, di questo fantastico integratore alimentare della SNEP che potrebbe rivoluzionare il vostro organismo. Allora, innanzitutto partiamo dicendo che cos'è. La quercetina non è altro che un flavonoide presente in una grande varietà di frutta, verdure, bevande ed estratti erboristici. Le dosi di assunzioni consigliate sono all'incirca un 500 mg al giorno. Noi, con la nostra alimentazione, arriviamo ad assumerne mediamente un 30 mg al giorno. Quindi converrete con me che integrarne l'assunzione è una scelta davvero fondamentale. L'integrazione con quercetina Max può contribuire a ridurre la formazione di radicali liberi e sostanze pro-infiammatorie. Inoltre è molto utile per le malattie nelle quali lo stress ossidativo e l'infiammazione cronica ricoprono un ruolo di primo piano, come ad esempio le allergie, le morroidi, l'artrite, l'insufficienza venosa, la resistenza all'insulina, la fragilità venosa. Quindi, diciamo, è un integratore davvero ottimo che tutti dovrebbero avere. Però, se proprio dobbiamo trovarlo in difetto, è che ha una controindicazione. Ossia, avendo proprietà anticoagulanti e antitrombiche, deve essere usato con cautela da chi fa uso di cardioaspirine simili oppure anticoagulanti orali. Infatti è sempre meglio che comunque vi rivolgiate al vostro medico di fiducia. Comunque, a parte questa eccezione, è davvero un integratore che tutti dovrebbero avere. Per un effetto maggiore, noi consigliamo di usarlo in combinazione con altri integratori. E più indicati sono l'integratore di lattoferina, in cui la lattoferina va ad aumentare ancora di più le difese immunitarie e favorisce la formazione della flora batterica buona e la protezione dai patogeni che attaccano la mucosa intestinale. Poi abbiamo anche l'extra di SNEP, che è un integratore alimentare con estratto di astragalo e poligonum con olio essenziale di T3 e vitamina D. Ok, adesso mi pare di avervi dato un po' tutte le nozioni fondamentali. Prima di concludere, voglio aggiungere che ad oggi l'importanza delle difese immunitarie, come abbassare la possibilità di infiammazioni e infezioni, è molto importante. Riveste un ruolo fondamentale nella nostra vita. E la quercetina Max ha proprio questo compito, cioè in combinazione con altri integratori, va a difendere il nostro corpo dagli attacchi esterni. Perché, come si suol dire, scegliere di proteggersi non è mai la scelta sbagliata. Ciao! Ciao!